Quel libro, quel tenebroso mistero... Chi è? Scusi, lei che mi risposta, chi è? Rieprendiamo, dai dai dai, avanti, rieprendiamo, via, forza, dai! Ogni quando altro vegano lascia la vita terrena, si trasforma in angelo. Che quella dedica dietro la tela? Mamma mia! Impercepibili presanze. Rivelazione di profondi misteri. Grazie a tutti.